Ciao a tutti e qua con il video, scusate se mi avete un po' sconvolta ma ho deciso ad un momento di fare questo video perché devo appunto montare un video e mi serviva per forza la parte iniziale e mi scuso anche se mi avete un po' sbattuta ma ho passato due giorni di influenza e mi ha davvero devastato e questa mattina sono dovuta andare al lavoro quindi sono insomma un po' sconvolata per questo che mi avete un po' così sono qui per girare la prima parte del video dell'evoluzione dei bruchi ho fatto qualche tempo fa il video dove vi facevo vedere cosa mi era arrivato ovvero dal sito smartbugs quel kit per allevare le farfalle a casa propria insomma che vedete anche qui la scatola e vi metto qui insomma in pressione e anche qui sotto in info box il link appunto a quel video dove vi stiamo usando il percorso e tutto quanto mentre in questo video oggi vedrete la prima parte di appunto dell'evoluzione dei bruchi ho girato di piccoli video e delle piccole foto per tutto quanto appunto ogni giorno la stessa cosa ho fatto su instagram e lì appunto lo vedrete quotidiano l'avete visto insomma quotidianamente e ho messo anche le storie in evidenza quindi se andate su mi preferito adesso vedrete tutto quanto il percorso anche in questo momento non è ancora finito infatti qui non ve le faccio vedere ma ci sono appunto i bruchi questo percorso come dicevo dura un mese siccome avevo molte ore di girato non potevo fare un video unico quindi dal primo giorno all'ultimo perché già adesso sono a penso più di due ore di girato e stiamo soltanto la prima settimana quindi molti di due ore di girato quindi ho deciso di dividere le giorni in più video quindi oggi vedrete mi sembra fino al quarto giorno che diciamo sono i più interessanti perché secondo me e vi dico alcune piccole cose cioè che come dicevo ci sono molte molte ore di girato quindi ho dovuto velocizzare tantissimi video e questo mi dispiace molto perché io starei ore a osservarli a vedere i loro movimenti sono davvero davvero interessanti io non pensavo che avrei avuto questa reazione io diciamo che come un po tutte le donne diciamo mi fanno un po schifo gli insetti quindi non avrei mai pensato di avere di essere così affascinata da questo tipo di di esperienza ma è anche quello diciamo che è fatto appunto per questo per sensibilizzare diciamo anche le persone secondo me su questi animaletti io sono davvero innamorata dei miei bruchetti e appunto io stavo ora e ora riprenderli a fargli foto e video per questo che sono stati tanti video tante riprese quindi ho dovuto velocizzare però per ogni video che velocizza appunto vi scrivo sotto a quanto velocizzo se almeno potete capire un po la velocità cercherò di mettere anche alcuni video ovviamente di velocità normale sto leggendo perché mi sono scritta appunto sul foglietto quello che dovevo dirvi ci saranno anche delle immagini riprese con la lente del cellulare macro quindi sono molto molto ravvicinate io quelle immagini le adoro si vede proprio i movimenti del bruchetto il musino le zampette davvero meravigliosi quei quelle riprese lì magari alcuni possono fare senso ma sono veramente meravigliose come dice appunto l'esperienza davvero interessantissima che invito a fare a tutti davvero perché oltre come dicevo appunto nel video precedente ad aiutare questi animaletti a sopravvivere perché comunque natura non riescono a sopravvivere tanto ma comunque l'esperienza davvero non solo per i bambini ma anche per le persone io sono rimasta davvero affascinata l'ultima cosa che volevo dire è per quanto riguarda l'odore perché comunque sono molto sensibile agli odori come vedete li ritengo in cameretta mia e quindi ho un po insomma di timore per capire insomma questo odore devo dire che per i primi giorni non c'è assolutamente odore perché ovviamente stanno nella petri e li sono sigillati con lo scotch addirittura quindi non vanno assolutamente aperti quando vengono spostati dentro la dentro la cupola che poi quindi andrà messo il cibo regolarmente pulita comunque la cupola anche se questa parte penso la potrete nel prossimo video per quanto riguarda diciamo la seconda parte c'è un po più di odore perché ovviamente ogni volta che l'aprite il cibo ha un po di odore di sana al finocchio un odore molto molto forte quindi diciamo quando li aprite la cupola sentite leggermente un po di odore però diciamo nulla di insopportabile ovviamente se lo tenete vicino alla faccia si sente di più ma comunque io che magari sto qui la scrivania loro stanno qui io assolutamente non sento nessun odore e quindi questo è tutto per quanto riguarda questa prima parte del video vi lascio adesso alle immagini spero tanto che questo video vi piace che vi sia utile e vi interessi e che vi invoglia anche a voi a comprare questo kit perché è veramente un'esperienza incredibile e ancora non sono arrivata alla fine io sono già elettrizzata ci vedremo presto con la prossima parte del video vi ricordo ancora una volta di seguirmi su instagram trovate il link qui sotto per vedere gli aggiornamenti quotidiani ciao cominciamo quindi con il primo giorno quando appunto mi sono arrivati sono arrivati circa a metà mattina quando arrivano sono in questa scatolina diciamo trasparente che si chiama petri sono molto piccoli e a me mi sono arrivati tre di cui uno un po più grande di colore diverso poi scoperto che anche gli altri due avrebbero cambiato pelle e quindi sarebbero diventati solamente dello stesso colore all'interno della petri c'è la porzione di cibo che dovrebbe bastare per quanto il tempo in cui appunto le larve devono rimanere all'interno di questa petri che non va assolutamente aperta il primo giorno erano molto apatici penso anche spaventati per tanto il viaggio e lo scombussolamento infatti soltanto quello proprio grandi si muoveva mentre le altre due stavano parecchio immobili una non si è mossa per niente tutto il giorno scoperto poi saprebbe che stava cambiando pelle infatti quando cambiano pelle sono immobili è bellissimo osservarli da vicino e vedere appunto i loro movimenti il movimento che fanno appunto per camminare che non sono riusciti a trovare il nome esatto su internet ma appunto quel strisciare insomma durante un corpo è davvero affascinante è bellissimo osservarli quando sono a pancia in su appunto si vedono anche le zampette che si staccano e si riattaccano in questi giorni l'unica cosa che fanno ovviamente è mangiare e fare la cacca infatti piano piano diminuirà il cibo e aumenteranno tantissimo le cacchette e quindi primo giorno è passato con la maggior attività di quello più grande quell'arancione che poi ho chiamato lucifer alla fine perché appunto sto seguendo questo periodo la serie tv lucifer e quindi era obbligatorio secondo me chiamare appunto uno di loro almeno lucifer e ho scelto lui perché era il più grande di tutti più arancione all'inizio e perché aveva anche di profilo delle piccole cornina quindi insomma proprio come un diavolo come un diavolo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E anche questo lì che ieri era fermissimo si è ovviamente mosso, ha mangiato e aveva cambiato la pelle appunto, se vedete nel posto dove era ieri sotto c'è appunto la pelle cambiata. Un altro comportamento molto interessante che soltanto uno dei tre ha fatto si è poi mangiato la propria pelle. Appunto quella che aveva appena cambiato l'ha mangiata, tutto quanto a lui. Per il resto della giornata hanno continuato ovviamente a mangiare e a fare bisogni e a crescere sempre di più a vista d'occhio. Il terzo giorno è stato quello più tranquillo della prima parte della giornata. Infatti la mattina erano molto apatici, tranquilli, non si sono mosti quasi per niente, anche più in pomeriggio, fino a metà pomeriggio sono stati molto tranquilli. Ho visto subito che la mattina c'erano delle ragnatele, delle ragnatele in qua e là. Questo perché cominciano appunto a produrre la ragnatela che sarà poi quella che li ancorrerà diciamo al supporto una volta che sono diventati crisalidi. Si attaccano appunto con la ragnatela al supporto che nella natura insomma è la pianta. La mattina era davvero evidente la differenza di grandezza tra appunto il primo che era diciamo più avanzato e gli altri due. Ho quindi cominciato a pensare di trasferirli nella cupola, quella appunto la casetta successiva diciamo alla Petri. Visto però che c'era molte differenze di statura tra il primo e gli altri due, ho contato il sito per sentire se potevo eventualmente spostare soltanto il più grande nella cupola e lasciare gli altri due oppure aspettare comunque che diventassero attuanti superiori ai 3 cm come appunto indica sulle istruzioni. E mentre durante la giornata pensavo ad affarsi appunto si trasferirà soltanto uno o aspettare, è incredibile ma anche uno dei due più piccoli diciamo è cresciuto tantissimo. In una giornata davvero in pochissime ore è diventato quasi uguale all'altro e infatti come vedete nel video si davano noia tra di loro perché comunque non riuscivano a girarsi bene nella Petri e volevano stare tutti quanti vicini al cibo. Ci sono queste riprese che ho fatto davvero divertenti che c'era uno che appunto dormiva che era Lucifer e c'era l'altro che diciamo è quello che è cresciuto in frettissima in questa giornata che era diciamo alla stretta tra la parete della Petri, il cibo e appunto Lucifer. Cercava appunto di rigirarsi e contorcersi per cercare di uscire da quel triangolino diciamo. Cercava poi di passare proprio sul bordo della Petri tra il cibo appunto e la Petri ma non ci passava perché era troppo grande quindi rimaneva incastrato e quindi tornava indietro. Cercava appunto di riguardo e alla fine Dai e Dai ha fatto staccare Lucifer che era appunto attaccato nella parte scuola della Petri e ha staccato letteralmente la parte dietro dalla Petri e appunto le zampette nello scondolone. E quando a che punto si andava dritto era finalmente libero? ha deciso di tornare indietro nel suo angoletto dove era rimasto incastrato contorcendosi come una molla, aveva appunto le zampette e la testa tutto storto e è tornato appunto in quello spazio distretto. e per tutta questa scenetta ho deciso di chiamarlo sempliciotto perché è davvero sempliciotto, si è incastrato, liberato e si incastra soltanto da solo. A quel punto anche Lucifer era attaccato appunto al soffitto con la parte dietro e con quella davanti mangiava girato nell'altro verso. quindi cominciava dritto e arrivava storto, era davvero buffissimo. finché poi alla fine, quando si è allungato tutto tutto, ha lasciato appunto i piedini, si vedono proprio i piedini che si lasciano e appunto torna dritto tutto quanto il corpo. e dopo aver assistito a queste scene dove era chiaro che erano troppo stretti nella pezza e che andavano comunque spostati, ho deciso di costruire la cupola, ma prima bisogna preparare il cibo e ovviamente all'interno del kit c'è tanto quello corrente e durante le istruzioni. come riporta anche sulle istruzioni più volte, prima di fare questo procedimento bisogna lavarsi benissimo le mani perché deve essere tanto sterile. quindi vado a prenderli con il misurino 70 ml di acqua, le vado a mettere all'interno della confezione appunto ermetica, vado poi a rovesciare la bustina di cibo che non è altro che una tisana diciamo di finocchi, ha un odore forte di finocchio e di penso camomilla, quindi diciamo una tisana niente di che. vado a amalgamare bene con la spatolina, dopo qualche secondo che tanto il composto sia amalgamato dobbiamo metterlo in microonde per due minuti a 500 watt. per chi non ha il microonde nelle istruzioni c'è anche la versione senza microonde, vado quindi a metterlo nel fornetto con il coperchio semi chiuso per due minuti. passato il tempo di cottura va lasciato a raffreddare completamente sempre con il coperchio semi chiuso per circa due ore dicono loro, ma io non mi sono fidata e siccome ormai era tardi per spostarli ho deciso di preparare comunque la casetta con il cibo all'interno e che l'avrei spostati il giorno dopo. passiamo adesso al quarto giorno e vado a costruire subito la casetta dove appunto li andrò a spostare perché davvero non riescono più a stare in questa petri, li sposterò tutte e tre perché comunque non ho raggiunto secondo me comunque la giusta misura, anche quello diciamo piccolo. quindi come le istruzioni con le mani ben pulite vado a prendere la cupola, vado a fare con lo sotticadenti dei fori superiormente e anche lateralmente. è meglio se i fori li praticate dall'interno della cupola verso l'esterno, in questo modo la plastica rigirata diciamo sarà all'esterno e grafferà appunto soltanto fuori, mentre all'interno è bello liscio. io ho fatto al contrario appunto dall'esterno all'interno quindi la parte graffiante della plastica è all'interno e avevo paura che i buchi si potevano far male, per questo ho appiantito tutta la superficie interna dei buchi. insomma, vado poi con le spatoline a prendere il cibo che avevo precedentemente fatto e avevo messo in frigorifero per conservare, faccio due quadretti li vado a mettere appunto sul fondo della mia cupola, vado poi a mettere gli istruzioni cadenti quindi appunto in dotazione con il kit nella parte superiore così meno loro possono arrampicarsi. un altro consiglio che vi do è se come me vi arriva un bruco già avanzato, più avanzato sugli altri, è quello di essere pronti già per il terzo giorno con la cupola e il cibo per eventualmente spostare il più grande, uno o più grandi insomma, e non fare come ho fatto io, aspettare il quarto perché diciamo che l'ultima parte della giornata 3 hanno sofferto parecchio secondo me. questa cosa dello spostamento e della crescita del bruco varia molto da soggetto a soggetto e quindi anche loro non danno delle specifiche indicazioni perché appunto può variare la crescita da tantissime cose, se mangiano di più sarebbero più grandi anche e soprattutto dal temperatura che c'è appunto dove li tenete, quindi non vi indicano il giorno preciso per spostarli, ma appunto varia molto da bruco a bruco. rimuovo lo scotch dalla petri e la vado ad aprire e con l'aiuto di stuzzicadenti e spatoline vado a procedere con lo spostamento, che non è affatto semplice perché loro si attaccano tantissimo con le zampette sia ovviamente alla superficie della petri che poi sullo stecchino o la spatolina una volta che appunto li andate a spostare, ma chiaramente deve essere fatto tutto con estrema delicatezza e pazienza. Il primo che ho sposto io che era appunto Lucifer, il più grande, si era attaccato tantissimo alla palettina con le zampette dietro e cercavo di farlo staccare con il cibo, infatti lo attiravo sempre più lontano ma non riuscivo a farlo staccare. Poi alla fine piano piano ce l'ho fatta, ho spostato anche gli altri due e la difficoltà sta anche nelle ragnatele perché appunto la petri è piena diciamo di queste piccole ragnatele e loro sono molto sensibili quando appunto li staccate le ragnatele dal corpo, quindi fanno diciamo degli scatti e comunque notate che sono davvero fortissimi con le zampette, quando si attaccano non ci vedo di farli staccare. Comunque una volta a spostare tutti ovviamente vado a rimettere il coperchio della cupola e state assolutamente attenti agli stuzzicadenti, io per poco faccio male a Lucifer, fra un po' mi sentivo morire, meno male che non ho schiacciato troppo. E questo quarto giorno è continuato con appunto l'osservazione che però in questa cupola non è affatto semplice perché non è una plastica completamente trasparente come era la petri e loro tendono comunque a stare molto molto più fermi, soprattutto sugli stuzzicadenti, quindi l'osservazione o comunque le foto e i video sono molto difficoltosi da fare, questo mi dispiace un po'. Hanno passato quanto il giorno sugli stuzzicadenti e scendiamo soltanto alcune volte a mangiare. Un'altra osservazione che vi faccio è che questi bucchiti sono molto sensibili ai rumori e un giorno li stavo osservando come il mio solito e all'improvviso il cane abbaiato e tutti e tre hanno fatto un subbalzo, mi ha fatto davvero troppo ridere. Fanno appunto questi subbalzi ogni volta che si spaventano e che appunto sentono un rumore improvviso, quindi il mio consiglio è di trovare per loro un posticino, come dice l'istruzione, ovviamente alla giusta temperatura, soprattutto che riescano a capire quando è giorno e notte e poi che sia tranquillo appunto dove non ci sono troppi rumori e movimenti intorno a loro. E un'altra cosa che mi sento di dire è quella di non movimentare troppo la petri, quindi di girarla sotto sopra, ho visto dei video, sempre con questi kit di bambini appunto con queste petri in mano che le sciocattavano tutte e non mi sembra proprio il caso, insomma perché sono animali. Poi a fine giornata ho tolto tante le cacchine, quindi ho riaperto la cupola e loro indisturbati sono rimasti attaccati ai loro stuzzicadenti, sono andata a rimuovere la cacca e se necessario dovete aggiungere il cibo, nel mio caso può bastare, magari lo aggiungo il giorno dopo. In questa occasione ho potuto osservarli un po' meglio da vicino e fare qualche ripresa, ma non posso usare la lente macro perché dovrei andare davvero troppo vicino e comunque è molto difficoltoso per la posizione appunto degli stuzzicadenti. Ho poi richiuso la cupola e sono rimasti così fermi per tutto il resto della giornata. Ho poi richiesto la cupola e sono rimasti così fermi per tutto il resto della giornata. La cupola, siccome stanno ognuno sul suo stuzzicadenti, c'è davvero poca interazione tra di loro, scendono appunto alternandosi per mangiare e poi tornano appunto sul loro stuzzicadenti. Tranne per qualche scelta davvero troppo troppo dolce, come qui che il bruco appunto si allunga tutto verso l'altro bruco, sembra quasi che gli chiede, ehi ci sei, sei sveglio? Davvero buffissimo. E con questo si conclude questo primo video dedicato appunto a questo percorso con l'allevamento di farfalle. E' già venuto davvero lunghissimo e non voglio farli appunto troppo lunghi. Vi aspetto prossimamente qui sul canale per vedere la seconda parte della trasformazione e vi invito a seguirmi su Instagram per avere quotidianamente aggiornamenti. E questo è tutto per qualsiasi domanda, potete iscrivervi qui sotto e vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao, ciao!